Dissonanze armoniche, il titolo di una mostra di fotografie, cosa significa questo titolo? Il titolo richiama la musica naturalmente perché la fotografia ha anche una forma in cui l'immagine ha una scansione visiva ma anche armonica. Perché dissonanze? Perché nel lavoro di Cesare Salvadeo, proprio come succede nella musica, l'insieme di più suoni che non hanno assonanza creano una dissonanza e così nelle sue immagini ci sono elementi che apparentemente non hanno assonanza visiva ma all'interno dell'immagine, di quello che vede poi lo spettatore, si crea, grazie al lavoro di Cesare Salvadeo, un'armonia. Per cui noi finiamo per vedere qualche cosa che apparentemente non è distante e invece totalmente in armonia grazie alla sua capacità di scattare anche con una sorta di humor e con una sorta anche di simpatia che poi noi abbiamo nei confronti del soggetto che lo va a inquadrare. Uno dei più grandi fotografi del mondo, Cartier-Bresson, diceva che bisogna mettere sulla stessa linea di mira il cuore, la testa e la macchina fotografica. Tu girando per la città riesci a guardare cose che noi vediamo ma non riusciamo a guardare perché tu hai questa capacità di mettere queste tre cose insieme. In effetti sposo totalmente quello che disse Cartier-Bresson, mettere sulla stessa linea di mira la mente, l'occhio e il cuore ed è tuttora quello che faccio. Non è una cosa semplice perché questo genere di fotografia che io pratico da una vita ormai comporta una serie di cose che messe tutte quante insieme devono essere svolte con un'estrema velocità di esecuzione, quindi con una prontezza di riflessi notevole ma soprattutto alla base di tutto questo ci deve essere la capacità non soltanto di guardare distrattamente ma di vedere il particolare che si sta formando in quel momento e cioè, come dire, limitare ad un fotogramma condensare proprio in un fotogramma il particolare che estrae dal caos della vita che ci sconda. Fotografie in cui in un fotogramma si riassume una storia, una vita, quando sarà possibile vedere queste storie fotografate? Ma intanto andiamo tutti all'inaugurazione sabato prossimo, 24 febbraio, a Sarzana, alla mostra appunto all'associazione Factory che inaugura alle 18.30 e rimarrà aperta fino al 7 marzo, sarà visitabile il venerdì, sabato e domenica.